L'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo dimostra solidarietà e si unisce alla causa della ricerca medica attraverso la sua partecipazione attiva e solidale alla Maratona di Teleton. Quest'anno tutto il personale scolastico dell'Istituto, costituito dai plessi centrale Salonico e Giovanni XXIII, si è impegnato con passione e determinazione per sostenere la ricerca scientifica in ambito medico. Tre giorni di feste di gioia, ma l'obiettivo principale che noi corpo docenti ci siamo prefissati e quelli di sì farle divertire attraverso le esibizioni fatte sul palco, ma cominciarli a far crescere con quella sensibilità necessaria e importante per ricordarsi di chi ha più bisogno, quindi degli altri. In quanto a scuola amica di Teleton un'altra degli obiettivi è quello che è bellissimo, dicevi tu, è proprio quello di potersi donare agli altri anche attraverso questi momenti particolari. Ecco perché anche i genitori sono presenti per star vicini ai loro figli in questo momento importante. Teleton rappresenta un momento cruciale dell'anno in cui la solidarietà si concretizza in azioni tangibili. Gli sforzi congiunti di alunni, genitori, donatori e membri dell'Istituto hanno creato un clima di unità e solidarietà. Tutti gli alunni, dopo aver interiorizzato il messaggio di Teleton tramite delle attività di sensibilizzazione e campagne informative sull'importanza della ricerca in ambito scientifico, hanno presentato a modo loro il messaggio della Maratona Internazionale attraverso canti, balli e cartelloni illustrativi. Teleton è una fondazione che aiuta per una raccolta fondi, per le persone più sfortunate e che hanno bisogno. Perciò noi con questa giornata vogliamo dare un contributo. Teleton è una situazione che si occupa di curare ragazzi molto più sfortunati di noi, magari nel campo delle malattie molto rare. Infatti attraverso delle donazioni che stiamo cercando di fare stiamo aiutando Teleton con questa ricerca nello scoprire come curare queste malattie. Perché è così importante questa giornata? Perché Teleton aiuta i bambini, quelli che hanno malattie rare oppure malattie genetiche che non si possono curare e noi con questa raccolta fondi cerchiamo di aiutare e spendere per nuove cure oppure per vaccini per i bambini in Africa. La collaborazione dell'istituto con Teleton rappresenta un pilastro della solidarietà, dimostrando come l'unione di sforzi possa fare la differenza nella ricerca scientifica. La speranza di trovare cure efficaci per malattie genetiche rare è ciò che ispira gli studenti e il corpo docente.